Allora, qualche aggiornamento su quanto sta accadendo in Palestina. Continua il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele. Hanno lasciato un intero popolo di due milioni e mezzo di persone senza elettricità, quindi non è possibile prendersi cura dei malati in ospedale, senza gas, senza acqua, senza medicinali. Voi sapete che Gaza è l'unico posto al mondo dal quale non si può fuggire neanche quando ti bombardano dall'alto, non è possibile uscire da Gaza. L'unico tratto che poteva servire al popolo palestinese per mettersi in salvo, per provare a mettersi in salvo, era il valico di Rafa, quello che collega la striscia di Gaza con l'Egitto, ma è stato bombardato dagli israeliani anche quello ed è stato reso parzialmente invalicabile. Quindi il popolo di Gaza è chiuso in una gabbia, è chiuso in una morsa, questo con la condiscendenza di tutta la comunità internazionale, quindi con la scusa di dover punire i responsabili di quell'atroce attentato, di quegli assurdi attacchi dai quali prendiamo tutti quanti le distanze da parte dei terroristi di Hamas, stanno però punendo e colpendo un popolo intero. Che stiano colpendo un popolo invece dei terroristi, lo dicono i numeri. Ad oggi siamo a 2200 morti palestinesi a Gaza da quando sono iniziati i bombardamenti israeliani e 774 sono bambini, quindi più di un morto su tre sono bambini. Se a questi aggiungiamo anche le donne, ci accorgiamo che un morto su due sono donne e bambini.